Quest'anno è iniziata con largo anticipo e con un notevole incremento di presenze la stagione estiva di Francavilla al mare, presa d'assalto da turisti e vacanzieri con un boom di presenze che sta facendo registrare un tutto esaurito su tutta la costa di Atina. Ma accanto all'offerta balneare che funge innegabilmente da traino, complice anche la bandiera blu di recente attribuzione, a Francavilla al mare anche l'offerta culturale fa la sua parte, con un ricco calendario di eventi, come spiega il Tg8 Luisa Russo, sindaca di Francavilla al mare. Questi anni di Covid che hanno fatto riscoprire a tanti questo meraviglioso Abruzzo e questa meravigliosa costa e anche grazie alle temperature che si sono registrate, perché già da metà maggio le spiagge e le nostre strade sono piene di turisti che vengono per i weekend o anche per lunghi weekend. Percepisco una grandissima soddisfazione, sono tutti al lavoro e quindi sì, sono molto contenti. Ciò anche grazie al conseguimento della bandiera blu, che è un riconoscimento che è stato dato alla città e a questa amministrazione, che aiuta anche gli operatori turistici a proporre meglio, a formulare meglio la loro offerta turistica. Paisaggio e natura qui a Francavilla al mare ovviamente giocano la parte maggiore con questo splendido mare che vediamo anche alle nostre spalle, ma a fronte di tutto questo c'è anche una buona offerta culturale che il Comune offre ai tanti turisti che decideranno di trascorrere qui le vacanze. Sì, certamente Francavilla ormai negli ultimi anni si è caratterizzata per un cartellone di manifestazioni estive veramente ricco, non solo di intrattenimento ma anche proprio ricco dal punto di vista culturale che quest'anno abbiamo ampliato anche con delle nuove eventi, nuove manifestazioni, tra cui il Festival delle Narrazioni Squilibri che si è concluso da poco ed ha avuto un grandissimo successo un'altra manifestazione cinema e psicanalisi che ha messo insieme il cinema ma anche con grossi contenuti appunto relativi agli aspetti psicologici. Partiamo fra qualche giorno con il Festival della Filosofia che ormai è un appuntamento tradizionale di Francavilla e partirà giovedì per concludersi domenica. Tutto ciò proprio per dare rilievo alla natura, posti bellissimi e anche culturali di Francavilla abbiamo introdotto quest'anno una proposta di Francavilla Life, sono 120 percorsi, 120 esperienze da fare su tutto il territorio per far conoscere ai turisti ma anche ai cittadini di Francavilla le bellezze delle nostre contrade, delle nostre campagne e dei nostri luoghi culturali. tramite il tour operator Bike Life abbiamo proposto questo ai turisti con dei libretti che si trovano in tutte le strutture ricettive, in tutti gli hotel e ristoranti questi percorsi da fare sulla città.